Allora, io sto cercando un volontario per stare con il gruppo con la razza. Ciao, piacere, Amalia, Maurizio, Davide, ciao. Ok, pronti, via! Ad Aleppo i ragazzi, i bambini musulmani e cristiani si ritrovano a pregare insieme per la pace. Adesso la polizia ci accompagna davanti, aspetta, aspetta che si riuniscono tutti. Vi accompagniamo fino a conplanare. Là c'è una specie di rotonda e dopo tu parti. ... ... ... ... Questa è stata un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. pausa foto andiamo giù a ago a quel paesino dove abbiamo lasciato la macchina e passate qua in giro sul po non fuori male se no scusi l'idea se ne vanno per il comandante allora qui in generale qui che non trovate la macchina la macchina la macchina è la macchina è una parte lì Grazie a tutti 30 secondi 29, 28 I motori caldi Pronti Vai in fondo Yeah Ciao Marco Ungaro Ciao Ciao mamma Destra Destra Senti l'appoggio Ecco le due vache Le vache Senti l'appoggio Senti l'appoggio Senti l'appoggio Senti l'appoggio Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.